Questo programma potrebbe contenere un messaggio esplicito, è rispettoso e non è adatto ai minori. Mi sarebbe piaciuto iniziare con lo slogan iniziale di La Zanzara, non so se lo conoscete, quel programma con Cruciani e Davide Parenzo, dove la gente ne dice di cotte e di crude, usando un registro tutto suo, tranne la bestemmia, quella è l'unica cosa che non è accettata in quel programma. Eppure ci vorrebbero, ma stiamo parlando di un gioco, e attualmente nella vita reale ci sono cazzate più gravi, anzi cose molto più gravi che Paemmo Calcio, che comunque è economicamente solido, quindi siamo in una botte di ferro, siamo in una botte di ferro, mamma mia che occhi, perennemente stanchi, anche quando è il giorno off. Ieri lo avevo e l'ho vista tutta la partita al centro commerciale, per osseguire i miei doveri coniugati, e l'ho vista fino al secondo gol, e poi non dovevo guidare, meno male, non mi sono perso granché. Non ho fatto Frosino, no, quella l'ho fatta, non ho fatto Palermo sul Tirolo perché non ho visto la partita, se non vedo una partita non è inutile, solo con gli lights, ho seguito molti commenti. Ma comunque, come abbiamo fatto a perdere contro una squadra che dalla B alla A non si è rinforzata affatto e ha perso il suo allenatore, e figurati con una ternana. Eppure questa ternana a me non mi ha fatto impazzire, ho visto una squadra normalissima con i suoi difetti, i suoi pregi, e col Palermo che nel primo tempo ha rischiato anche di andare in vantaggio, ma ho notato una cosa, la squadra ha paura, è impaurita, è impaurita, non vedo una speranza del futuro. Il problema è che è difficile per una società eliminare l'allenatore, se non è l'allenatore, quando ti fai tutto questo lustro a Manchester, in quel pianeta a parte, è meraviglioso. Ma per me Corini è out, Corini non ci sta capendo una cippa, non ci capisce una sega, questo 4-3-3 va bene se hai un centramanti di due metri, il sfondamento che fa sportellate, e non è Brunori, o perlomeno Brunori lo è pure, Brunori è magnifico, Brunori è l'unico che avrebbe dovuto prendere la sufficienza. E invece, perché è l'unico che ci prova, fa assist, salta l'uomo, è l'unico, l'unico, mentre gli altri sono morti, compreso Di Mariano, che ha avuto qualche screzzo con i tifosi, l'unico che ha reggito, e che oggi leggevi in un commento che un tifoso si è permesso di pubblicare l'ammodivanto che io gli ho scritto che sei un pezzo di... Lo capite che nel privato i giocatori non si toccano, e li puoi contestare prima, durante e dopo la partita allo stadio, ma no dal vivo, gli rompi i coglioni sulla propria... a meno che non fai il fango, come Saraniti, su Saraniti ci vuole un video a parte, su Sonni d'Angelo, Palermitani rinnegati, non si capisce che ce l'hanno contro questa società, perché loro volevano giocare titolare all'epoca, non lo so, non aveva nessuno, Saraniti le sue occasioni aveva avuto, Di Mariano e Titone da Movimbi, ma è che ha detto cosa? Ha detto solo... non mi ricordo, ha detto... state zitti, cioè non è che se voleva essere più volgare, diceva peggio, ma guardate che poi anche per loro c'è nei coglioni girati, c'è nei coglioni a terra di questa situazione, hanno capito che l'allenatore non ci sta capendo un cazzo, e che la società non vuole perdere la faccia, vuole scommettere su Corini a oltranza per non perderci la faccia, ma io già l'avrei esonerato, non ci sta capendo un cazzo Corini, ma non è che la società però ha svegliato a chiapparlo, perché Corini è un allenatore, che è un palmeres importantissimo, io me lo ricordo, ma dove è finito quel Corini che con il Brescia era l'Avalgama FC? Quello di Tonali, Bisoli e Torregrossa, Torregrossa è stata una sua creatura, anche Bisoli, Tonali già si conosceva da prima, Corini al Brescia sostituì Suazzo, perché Suazzo è un tipo di presidente che dice mi piaci, sessualmente mi piaci, guida la mia squadra, tipo Lopez, Arcaglie senza esperienza, una merda di allenatore totale, peggiore allenatore che abbiamo avuto nella storia del Palermo, proprio niente, niente, fuffa, vive in Uruguay, lo chiamano, ma che cazzo, comunque, e succede questo, che finalmente Sara gioca titolare, ma solo lui non basta, io l'ho visto che ha faticato nel primo tempo, poi esce per infortunio, buttano, non ci capisce un cazzo, ora io dico, Matteo, sulla destra, non sta facendo male, lo sposti sulla sinistra perché non c'è nessuno, a parte la società ha sbagliato ad accedere ai gironi, io lo dico, è il mio più grande rammarico, avrebbe giocato un sacco di partite, metti Matteo, sulla sinistra, la vuoi mettere per Pierozzi, vuoi mettere Lìa, che l'ha sempre fatto, ma manco per il cazzo, neanche per il cazzo, per non parlare poi del resto dei giocatori, inutili, che non corrono, non fanno, anzi, in primo tempo qualcosina, l'ho visto all'unico che è Segre, però Segre da solo, non è quel tipo di calciatore che può portare la croce, anche Bro non è che fa molto, qua nessuno, chiunque metti, ormai, non c'è, non è che non c'è amalgama, raga, è Ancelotti al Napoli, non c'ha capito che anche, molti allenatori, grandi allenatori, hanno avuto quella fase, in cui non c'hanno capito un cazzo, in quella panchina, Maran, al Pisa, Maran, sappiamo che, che allenatore è Maran, è uno che ha fatto grandi cose in A, e anche grandi cose in B, e quest'anno al Pisa, non c'ha capito un cazzo, capita, la società l'ha aspettato e poi si ha rotto il cazzo, ha richiamato D'Angelo, che secondo me non si è lasciato bene, altrimenti non si spiega, una cosa del genere, però la società si è calata le corna, il Piso, sto dicendo Piso, non dico Como, giusto? spero, scambio sempre queste due cose, quindi nulla, eeeh, apposito di Como, Como già dice, siamo sullo 0-0, siamo in crescita, palermo per vincere, siamo diventati il Silvano, della cadetteria, il Silvano della Digitex, diciamo, di Canale da Caffè, e quindi, nulla, dove fare le pagelle, si salva solo Brunoni, il resto, poverino Pigliacelli, prende tre golli che non sono i suoi, però, che sai, gli diamo SV, non lo so, sta sul cazzo a prescindere dal pubblico, ecco, questo io faccio un monito, ai tifosi, di non rompere i coglioni sul personale dei giocatori, l'unico è, deve venire bombardato, no, bombardato sul personale è nessuno, ma la vera colpa è di Colini, è di una società che non vuole perdere la faccia, stanotte ci pensavo e dicevo, sai che c'è mal che vada con questa società, anche in C, ce la facciamo, è importante avere delle proprietà solide, io avrei preferito cinque anni di salvezza tranquilla, che di tornare in C, perché è terribile, terribile, terribile così, ma non è, il Monzo insegna, avevi stroppa, e ha fatto un ottimo lavoro in B, e non piglia, metti palladino senza esperienza, ma solo cambiare, non è che ci vuole un grande stratega, qua bisogna entrare nella testa dei ragazzi, e farli riprendere, stesso discorso fece la vecchia proprietà, quando mise un inesperto, Filippi, che però si accorse dalla società, che era uno sveglio, e che fece molto molto bene i primi sei mesi, poi il problema di Filippi, è che non avendo esperienza, a lungo andare con una nuova stagione, ha perso anche lui le redini e lo spoglietoio, insomma, a livello tattico, tecnico, e soprattutto di testa, fece benissimo, ci vuole un allenatore, che ora si prende la squadra, e sta a Tascina, alla salvezza, per poi ricominciare di nuovo, con Andrazzoli, con chissà quale rivelazione, vediamo come va Caserta quest'anno, altri nuovi giocatori, questo video è molto a mente fredda, perché io stamattina, facevo le prove nel mio cervello, ed avevo un altro tono, sono da me le 5 e mezza, e sono molto scarico ormai, è seccato, quindi, e Corini out, non lo cambieranno, altrimenti l'avrebbero già chiamato, vediamo che succede, vediamo che succede contro il Como, si gioca in casa, e vediamo, e come è messo in classifica peggio di noi, è uno squadrone, che come loro non sono riusciti a trovare l'amalgama, perché hanno cambiato molto, moltissimo, e se cambi molto, può anche succedere, la regina ha cambiato tanto, ma stanno facendo grandissime cose, la regina ha perso, mi sembra, ma ha molto da recriminare, a livello arbitrale, di sfiga, il Bale ha cambiato poco, ha cambiato bene, ha speso 2 milioni l'attaccante, un altro 1 milione qualcosa, un centrocampista che ha inserbito, e ha tante roba, questo per dire che il City, il gruppo, il City Group ha, gli ha messo il grano, e di colpa non è, però c'era un'ottima ossatura, e un ottimo gruppo, adesso sono primi, considerando pure però, che ci sono Genoa Cagliari, non si capisce, perché non vogliono decollare, perché non l'avrei mai detto, inizio campionato, ancora il campionato è iniziato adesso, per fortuna, il Palermo in zona play out, deve uscire assolutamente, è un peccato, una cosa che mi fa piacere, è che però vedo, che comunque, su tiro alternale, a me non mi pare, uno più fortile è Palermo, neanche il Frosinone, quindi, se il Palermo si ritrova, finalmente, un allenatore, che riesce a caricarli mentalmente, al di là, degli schemi tattici, delle soluzioni, che poi è solo una questione di testa, se riesce a, niente, a trovare un allenatore, che riesce a prenderli, per me si può, si ci può ancora salvare, siamo ancora in tempo, sono, d'altono si vede, in che da tempo, non faccio un video, bello raggiante, bello contento, queste cose mi fanno, dico Napoli, scendere la voallera, qua in Guitare è pieno, i partenopei, e che dire, speriamo, in una qualcosa, in un cambio di rotta, appunto, non so quando gioca, sta partita, la prossima, non me lo ricordo, e speriamo bene, un abbraccio a tutti,